Dieci giovani pittori aprono le porte dei loro studi ai visitatori, esponendo le opere e mostrando al pubblico come nasce un'opera d'arte. Giovani pittori crescono. A Roma la scuola Tozzi, in via del Casaletto, ha deciso di affittare alle aule del terzo piano a dieci pittori giovani. Alcuni famosi come Gonzalo Orquinno, Silvia Codignola, le cui opere sono state esposte in varie mostre pubblicate su diverse riviste e cataloghi, altri meno famosi ma pur sempre di qualità. Gli artisti hanno trasformato le aule in studi e sabato scorso hanno accolto i visitatori in una mostra happening che è andata avanti fino a tardasera. Io ho scelto di venire in Italia perché secondo me l'Italia è la culla dell'arte, è il paese più bello al mondo e Roma sicuramente è la città più bella al mondo in assoluto, che più possa ispirare a un artista che fa come me figurativo. In un momento in cui la pittura viene considerata serie B, nella maggior parte dei musei, nelle gallerie, si vede ben poca pittura figurativa.